...meccanismo puro, sto scherzando, guarda che qui non c'è tutto, guarda che qui non c'è tutto, ...questa, prenda lo stesso, chi non vuole soffrire, falla vedere anche alle ragazze, è importantissimo, io non voglio vedere nulla, fatto, rimetti la carta, dove vuoi? Libera, fatto, bene, si lo vuoi tu, fatto, ...dato, sembra picchino la silica, frago, ...in l'occhio, in l'occhio, in l'occhio, in l'occhio. ...ok, ovviamente, posso dire, ...quanto più anzi, ...in l'occhio, ...e tutto, In un'idea che puoi utilizzare una forte fatta, colere coloro da moduli sono dość un tan di bisogno di aver un mix che abbiamo adesso usato meglio nel nostro gruppo. Signora, quindi se non vi dauero ho bisogno di notte altre posizioni, come un'idea di cos iPad. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.